Harry, qua giù! Ciao Harry, sono io, Hagrid. Che piacere vederti. Questi sono i giardini del castello di Hogwarts. E io naturalmente sono il guardacaccia. È incredibile come tutto cresca rapidamente da queste parti. La tua amica Hermione ti sta aspettando all'ingresso della serra. Passa di qui più tardi per una tazza di tè dopo le lezioni. Allo mora! Allo mora! E conviene andare alla lezione di erbologia. Se arriverai in ritardo, farai perdere dei punti alla tua casa. È ora di andare a lezione, Potter! La lezione di erbologia si svolge appena dopo il giardino della professoressa Sprite. Rimarrò qui ad aspettare Neville. Temo che si sia perso un'altra volta. Forza, Harry! Ti conviene andare a lezione. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. alomora filipendo filipendo cilipendo 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 SILMATO 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 ALOMATO 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 SILMATO 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 ALOMA ALOMATO 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 Alomora! Vingardium Leviosa! Alomora! Alomora! Sulipendo! Sulipendo! Schoir! Y& By... Alomora! �로 Alomora! Alomara! Alomara! Ehi! 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 hai racconto 25 gelatine grazie per l'aiuto ecco una figurina streghe e maghi famosi spero che tu non ce l'abbia già coraggio George il lavoro ci aspetta alomora 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 kac Benvenuti! Sono la professoressa Sprite Oggi vi insegnerò l'incantesimo incendio che può essere usato contro ogni tipo di pianta pericolosa Guarda attentamente il simbolo dell'incantesimo incendio Tieni premuto il pulsante del mouse Segui il movimento e poi rilascialo Incendio! Una prova straordinaria per uno studente del primo anno Cinque punti a grifondoro Prova ad andare un po' più veloce questa volta Incendio! Una prova straordinaria per uno studente del primo anno Una prova straordinaria per uno studente del primo anno Quindici punti a grifondoro Continuiamo la lezione, Potter Ci sei quasi, Potter Ma hai bisogno di esercitarti ancora Ora è il momento della sfida incendio Attraversa la porta, Potter Io ti guarderò dal balcone Questi sono i cespugli spinosi Quando lanci l'incantesimo incendio Tieniti a distanza per evitare le spine OUCH! Questo è un esemplare tipico di tentacoli velenosi Lancia l'incantesimo incendio Bene Ora raccogli le stelle per completare la lezione Al lavoro Incendio! Incendio 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 alomora 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 incendio 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 alomora si ripendo i rampicanti stanno attaccando quel povero albero quella sembra una docinina ai ripendo 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 quelle piante ramicanti saranno pericolose meglio non passarci sopra incendio 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 a sp alomora flippendo 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 incendio flippendo 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 allo morto rimpelgo rimpelgo vingardium leviosa vingardium leviosa vingardium leviosa rimpelgo 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 Alomona! Slipendo! 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 Incendio! Slipendo! Incendio! Slipendo! 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 Incendio! 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 Intendio! Slipendo! Slipendo! Alzheimer! Alomora Fulipendo 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 Alomora Fulipendo 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 Alomora Fulipendo Incendio Fulipendo 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 Alomora Fulipendo 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 Fulipendo